Rigenerare il titolo di un convegno organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve l'11 dicembre, proprio qui a Pontassieve. Ecco, un titolo stimolante per sapere come ci si può muovere in un contesto così cambiato e così rapidamente cambiato a causa della pandemia. Sì, la pandemia ha messo a nudo criticità, problemi, ma credo anche opportunità sia all'interno del nostro territorio che nel resto di tutta Italia. Abbiamo visto sicuramente tanta sofferenza, tanto dolore, ma crediamo che con un pensiero di visione complessiva possiamo trovare anche delle opportunità importanti per il nostro territorio. Strategie per poter valorizzare il contesto della Val di Sieve e di tutte le realtà che stanno dalle porte di Firenze fino a tutta la Val di Sieve alta possono essere molteplici. Sicuramente l'essere in rete, mettersi in rete, cioè cercare di far sì che il territorio possa parlare una voce, una voce unica e che possa avere una visione complessiva. Mettersi in rete vuol dire anche fare servizi che possono essere messi a disposizione di più soggetti e di più attività economiche. Altro elemento, valorizzare la qualità. Se in un mondo globale il locale può rispondere soltanto con la qualità. La Val di Sieve, problemi e criticità come in tutte le aree italiane, ma anche grandi potenzialità. Quali sono? Quello che è emerso dal convegno è che il nostro territorio ha forse più potenzialità che criticità. E questo è un elemento sicuramente positivo che contraddistingue il nostro territorio. Sicuramente ci sono criticità, famiglie che in questo momento hanno grosse difficoltà a sostenere anche i fabbisogni essenziali, ma abbiamo anche tantissime potenzialità e tantissime potenzialità nascoste. Basta pensare a quello che vediamo tutti i giorni facendo la strada che ci conduce nella Val di Sieve, partendo da Firenze. Abbiamo sulla riva dell'Arno, passando da Vallina, un monumento che probabilmente tutto il mondo ci potrebbe invidiare, che è le gualchiere, che nelle intenzioni appunto delle amministrazioni della città metropolitana verranno ristrutturate. Ecco, un tesoro nascosto come ce ne sono tanti che rappresenteranno per noi una leva fondamentale per il nostro futuro, oltre a tutte le microattività artigianali e commerciali che ancora contraddistinguono il nostro territorio. Noi abbiamo in programma appunto un progetto che è denominato Rigenerare, che il Presidente ha presentato durante questo incontro. Rigenerare significa generare di nuovo, questa è un'ambizione forse eccessiva per noi, ma vuol dire anche ricostruire parti di un organismo che sono andate deteriorate. Ecco, questo forse è il punto su cui ci concentriamo, che è appunto ricostruire tutto quello che purtroppo questa pandemia ha non demolito definitivamente, ma ha sicuramente ostacolato, che sono i rapporti interpersonali, l'elaborare insieme idee e progetti. Grazie. Grazie. Grazie.